Riduci, produci e trasforma. Intorno a queste tre parole chiave stiamo giocando la strategia di trasformazione verde, di sostenibilità a 360 gradi della nostra città, la città di Legnano. Stiamo perseguendo la strategia dell'Agenda 2030, ma stiamo lavorando in un'ottica di quella che Papa Francesco chiama la sostenibilità integrale. Stiamo riducendo i consumi della nostra città, come? Utilizzando al massimo i fondi PNRR, fondi europei, fondi regionali, fondi statali, fondi propri per migliorare l'efficienza energetica e ridurre l'impatto ambientale di tutti gli edifici pubblici, a partire dalle scuole, dagli impianti sportivi, luoghi dove vivono e crescono i nostri bambini, i nostri ragazzi, i nostri giovani. Stiamo riducendo l'impatto dei nostri rifiuti, quanti ne produciamo e come li differenziamo. Abbiamo introdotto la tariffa puntuale in una città di 60.000 abitanti e insieme alla città di Bustarsizio e alla società partecipata che gestisce il sistema idrico integrato abbiamo trasformato quello che era un semplice termovalorizzatore in un impianto di economia circolare, che dalla materia che viene bruciata recupera calore per il teleriscaldamento delle nostre città, recupera in maniera migliore le plastiche mandandole al recupero e recupera anche altri materiali come la CO2 per creare materiali che vengono a loro volta rimmessi nei cicli produttivi. La riduzione passa anche dalla riduzione della CO2 che si opera attraverso il cambio degli stili di mobilità sostenibile. Vogliamo una città che sia sempre più in grado di permettere a tutti di muoversi, non solo agli automobilisti ma anche ai ciclisti, agli anziani, ai disabili. Per questo stiamo realizzando un progetto particolare che è quello della Bicipolitana, una vera e propria rete cittadina che permetta a tutte le persone, anche sulle due ruote, di muoversi in sicurezza in città. Ma non basta ridurre, bisogna anche trasformare e produrre. Produrre che cosa? Innanzitutto produrre più ossigeno, perché è di questo ciò di cui abbiamo bisogno. Per farlo un'attenzione particolare al tema della forestazione urbana, abbiamo aderito al progetto di città metropolitana Forestami, col quale stiamo piantumando moltissimi alberi in città, stiamo curando in maniera particolare il patrimonio arborico storico e stiamo cambiando l'approccio alla manutenzione e alla cura del verde pubblico, anche quello minuto, moltiplicando le aiuole fiorite a favore anche della biodiversità dei nostri insetti e coinvolgendo per esempio i cittadini in azioni di cura concreta, molto basilare, ma molto concreta del verde pubblico, perché lo sentano qualcosa di proprio da curare e da rispettare ogni giorno. E poi la trasformazione del territorio, trasformazione del territorio che passa da alcuni progetti importantissimi di denpermeabilizzazione dei suoli per aumentare la riesilienza e la capacità delle nostre città di assorbire l'acqua che sempre più spesso arriva tutta insieme con delle bombe d'acqua e poi la capacità di resistere e di essere resilienti anche attraverso la rigenerazione urbana, attraverso il piano di governo del territorio riduciamo di oltre il 66% il consumo del suolo, ma soprattutto andiamo a incentivare tutte quelle operazioni di rigenerazione urbana alla scala micro o alla scala macro, dando proprio degli incentivi per chi attua delle soluzioni basate sulla natura nella trasformazione della città. Un insieme quindi di azioni, di strategie che la città di Legnano sta mettendo in atto per essere una città sempre più sostenibile.